Sì, non mi hai detto che sarei tornato a scuola La professoressa Arpa ha una nuova classe oggi, ve la faccio conoscere Ma ciao, salutate Guardate che classe Ma perché? La professoressa Arpa ha una nuova classe, ve la faccio conoscere La professoressa Arpa ha una nuova classe, ve la faccio conoscere La professoressa Arpa ha una nuova classe, ve la faccio conoscere La professoressa Arpa ha una nuova classe, ve la faccio conoscere La professoressa Arpa ha una nuova classe, ve la faccio conoscere Grazie 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 Grazie